Musica 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 Quando c'è una buona, comincia una buona Come succede? Ci vuole un tricato? Ahahah Io non so mai come caso, come caso devi partire Aspetta E' proprio Ma stai con me Ma stai con me Allora A cosa fu vale gusta E' l'ambiente Quei guadaggia No Gatti umani Gatti umani Gatti umani Gatti umani Si Che facciamo? Ahahahahah Oh I mo' ternate le mani Musica 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 Quindi noi vi aspettiamo l'11-12 luglio All'American Dream Car Qui a Gatteo Grazie Grazie a tutti A presto Continuate a seguirci Noi vi aspettiamo Ciao 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 Ciao